Sinergo. Troviamo soluzioni personalizzate per famiglie e imprese. Una rete di professionisti a tua disposizione per formazione, consulenza bandi, ricerca e selezione del personale. Attivazione e tirocini, sicurezza sul lavoro, patronato e gestione dei lavoratori domestici. Privacy e welfare aziendale, comunicazione digitale. Il vantaggio? Confrontarsi con un unico interlocutore. Sinergo. Sinergia e innovazione per essere più vicini al cliente. Per salute e sicurezza dei lavoratori, per privacy e normative sul trattamento dati, per premiare i tuoi collaboratori e ridurre i costi aziendali attraverso il welfare aziendale, Sinergo fa per te. Affidati a Sinergo.